buongiorno amici si rinnova il nostro appuntamento con l'orologia russa e nel video di oggi vi voglio parlare di un project molto interessante si tratta di un crono sturmansky mg cioè magister am è caratterizzato quindi dal logo che potete già guardare sul quadrante parleremo a breve di questa particolarità però intanto vi voglio dare qualche notizia tecnica è un crono sturmansky di fine anni 80 monta un movimento a carica manuale 31 33 che è derivato dal valgiu 7734 questo movimento è ampiamente rodato nel tempo è stato prodotto in un numero enorme di pezzi e risulta ancora preciso ed affidabile ai giorni nostri come gli altri strumansky civili anche questo ha la cassa in ottone cromato il fondello a vite e un vetro che ha un'angolatura a 90 gradi e ve la faccio vedere in questo modo il aure 9 c'è la corona che aziona la ghiera interna che è girevole il quadrante e silver agli indici luminosi e insomma qui potete vedere le sfere e gli indici nelle loro condizioni originali e ve lo dico per farvi per darvi appunto un paragone utile per eventuali confronti con gli orologi che vorreste inserire nelle vostre collezioni parliamo della particolarità che quindi del logo che rende questo strumansky così particolare possiamo vedere la grafica con le lettere mg celesti e con i bordi neri e sotto c'è la parola magister e m questa parola significa maestro però non significa il maestro di scuola infatti stiamo parlando di una indicazione che indica il titolo di maestro attribuito a chi per completa un percorso di studi magistrale quindi corrisponde all'italiano dottore magistrale appunto come titolo l'ipotesi che riguarda questo orologio che venisse dato a particolari studenti che concluso il percorso di laurea magistrale si erano distinti per particolari meriti quindi io a tal proposito vi invito innanzitutto a dire la vostra idea perché io ho le mie fonti ma mi piace confrontarmi con gli altri appassionati e un'ultima battuta la voglio fare riguardo all'interesse collezionistico relativo a questo orologio io sto entrando nel mondo dei brandizzati ho parlato e parlerò di polgiot strumaschi civili che riportano i loghi di aziende e di realtà che fra virgolette sono private in questo caso però l'interesse può essere anche maggiore rispetto al solito perché parliamo di un orologio più istituzionale non so quali siano stati i meccanismi per commissionare questo orologio alla fabbrica se si è intervenuto il governo o altro però il fatto che questo orologio riguardi l'ambiente scolastico fa crescere sicuramente la mia curiosità e il mio interesse per questo motivo sono molto contento di averlo inserito nella mia collezione detto ciò io vi saluto vi ringrazio per avermi seguito e se volete condividete il video sui social e fate un po di passaparola o comunque lasciatemi un like io vi ringrazio ciao